Sì, magari molti di voi si staranno chiedendo come mai i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno speso solamente 100 euro di campagna elettorale e molti consiglieri comunali, tanto del PD quanto del PD, hanno spesi oltre 100 mila. Ebbene, forse adesso cominciamo ad avere le prime risposte. Un sistema, a quanto affermato dal procuratore capo di Roma, un sistema, una cupola che praticamente gestiva tutti gli appalti pubblici di Roma capitale, della capitale d'Italia. E quindi magari capirete anche come mai ci sono state molte delibere in aula dove i quattro voti contrari, non solamente i quattro voti del Movimento 5 Stelle, parliamo delle delibere sull'urbanistica, delle delibere sul centro carni, dei maxi emendamenti di bilancio. Quindi è un sistema che sta avvenendo alla luce e ovviamente gli unici quattro consiglieri comunali che possono affermare con forza che a Roma deve tornare l'onestà sono i quattro consiglieri del Movimento 5 Stelle.